Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Aroide e oggi vedremo un'arma un po' particolare. Infatti in questa sorta di miniserie, adesso che ho finalmente finito di coprire tutti i maggiori boss del gioco e a breve partirò con i miniboss, voglio portarvi delle armi un po' speciali, in questo caso la Portal Zenshite. Non l'avete mai sentita? Questo perché è un'arma presente nel codice del gioco ma che non può essere ottenuta in nessun modo, quindi Gearbox ha deciso o si è dimenticata e quindi non c'è nessun modo di ottenerla se non tramite le mod su PC. Quindi se volete ottenerla ho già fatto dei tutorial su dove trovare le mod, come installarle e soprattutto come mandarsi delle armi per posta moddate e se guardate quei video capirete da dove andare a prendere questi codici. Io ovviamente in questo video non ve li andrò a dire perché andare a fare di nuovo un tutorial per la terza o quarta volta non mi sembra sensato. Detto ciò quindi partiamo e vediamo questa leggendaria e se ha qualcosa di speciale magari cerchiamo di capire perché non è stata introdotta, così come farò per le armi future. Enhanced Portance and Shite. Danno 7390. Precisione alta. Maneggevolezza media. Tempo di ricarica normale. Cadenza di fuoco normale. Capienza caricatore 22. È oltre persino la scienza. Livello Chaos 10, più 27% danno arma, più 39% precisione arma, più 15% velocità di ricarica, zoom arma per 2.9. Attiva un disco tracciante presso il nemico più vicino. I tuoi proiettili si dirigeranno automaticamente verso quel nemico per 18 secondi. L'arma è un po' particolare e ve ne accorgerete quando sparate. Vedete che la parte aperta si apre quando si spara. Se andiamo a vedere con la modalità speciale possiamo vedere che rispetto a tutte le altre Atlas è strana. Sembra un incrocio tra il solito barile alieno, quindi quello con gli occhi che siamo abituati a vedere, ma modificato per renderlo tecnologico. È sinceramente una delle Atlas più belle che io abbia mai visto ed è un vero peccato che non sia ottenibile normalmente. Per quanto riguarda il disco tracciante invece è il classico disco. In questo caso è un disco che rimane appiccicato, vedete, non va ad esplodere o fa altre cose, quindi ha un gameplay un pochino diverso e una volta fatto ciò non resta altro che mettersi a sparare. Andiamo quindi su Atenas per vedere se il danno è giusto e se il proiettili tracciante funziona come dovrebbe. Ed eccoci arrivati. La mia build è una build classica di flacca e quindi andrà a potenziare appunto i danni critici. Proveremo quest'arma prima senza la mia abilità e poi con l'abilità per vedere se c'è differenza. Andiamo quindi a pushare, prepariamo il disco tracciante, spariamo e poi iniziamo a sparare i colpi. E già, il danno è bassissimo. Andiamo quindi a usare l'abilità per vedere se riusciamo almeno a fare un pochino più di danno e la risposta è purtroppo no. Purtroppo ha più o meno lo stesso danno della carrier, se sapete di che leggendario sto parlando. La differenza è che la carrier genera proiettili aggiuntivi che andranno a colpire i nemici. Quest'arma no. Quindi è un'arma che può essere buona per quanto riguarda la modalità normale, ma sinceramente non la vedo utile per quanto riguarda la modalità non normale, quindi caos. Vedete che il disco può passarsi da un nemico all'altro quando viene distrutto, anche se io non l'ho sparato, quindi questo è qualcosa non scritto sulla carta, ma che comunque è presente. Adesso che è finito l'effetto del disco, posso sparare liberamente ai nemici che mi interessano. Andiamo a provare di nuovo l'abilità giusto per essere sicuri. Contro i nemici normali, quindi per fare del mobbing veramente leggero, può anche essere utile, ovviamente con una build adatta come la mia, ma altrimenti è inutilizzabile. Quindi direi che quest'arma è promossa solo al di fuori della modalità caos, altrimenti non è assolutamente promossa perché ci sono veramente tantissime armi più forti come quella che ho appena usato, che sarebbe la Maggie. Vedete che è una pistola semplicissima e fa molto più danno di un assalto. Quindi per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e vi sia interessato. In questo caso vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siete ancora per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video. Detto ciò da Roid è tutto, ciao a tutti!